Giornata delle malattie rare. Anche quest'anno Uniamo ha lanciato una campagna. Ce la racconti? Quest'anno è stata una campagna di nuovo out of home per poter accedere un po' a tutta la sensibilità dei cittadini, ma non solo, anche molto rivolta verso i ragazzi giovani e per far questo abbiamo messo in campo addirittura Fanta Sanremo, che è un contest molto seguito nell'ambito del festival della canzone di Sanremo e quindi abbiamo coinvolto i ragazzi nel cercare di fare il segno delle mani e i cantanti in una serata particolare. Oltre a quello abbiamo brandizzato Milano, Bologna, Venezia e Roma, abbiamo fatto una campagna sul magazine delle frecce, abbiamo fatto un mail bombing a Bari e abbiamo anche cercato di diffondere tutte le nostre storie attraverso canali di comunicazione più seguiti, quindi dalla tv ai social e così via. Quali sono ad oggi ancora le vostre priorità? Perché ormai sono anni che si celebra la giornata mondiale, ci sono iniziative, magari c'è anche un picco di attenzione da parte dei media e del pubblico, però che cosa è che vi serve ancora davvero in maniera così urgente? Allora, in maniera urgente dopo aver ottenuto un piano nazionale che è stato aggiornato, una legge 175 specifica e in visione olistica, la legge 167 sugli screening, ci serve che tutto questo venga messo davvero a sistema e che possa arrivare al domicilio del paziente cercando di fare in modo che le persone con malattia rara non debbano comunque lottare sia con la burocrazia, sia nel cercare un centro di competenza adatto per loro, sia per fare una presa in carico che sia davvero olistica, come la chiamiamo noi. Si parla tanto di autonomia territoriale, è una cosa che vi preoccupa rispetto alle disuguaglianze nell'assistenza che sono già presenti? Dopo aver visto quello che la modifica all'articolo quinto della Costituzione ha portato a livello regionale e non sempre è stata una bella esperienza, perché solo per fare l'esempio dello screening nao natale steso la Calabria è arrivata a Fanalino di Coda dopo anni rispetto alle altre regioni l'autonomia differenziale ci preoccupa molto, tutto dipenderà da come si riesce a mantenere un coordinamento nazionale che possa far sì che non si disperdano anche le buone esperienze che sono state sviluppate in questi anni.